non possiamo caprarci anche qua in mezzo in un palazzo di questi però non in questo andiamo a stare qua lei non rispondi mai andiamo andiamo basta che uno guarda una porta qui uno guarda la salita delle scale io però non posso guardare le scale perché ho il silenziatore eh ho il laser che silenzia guardo la porta blu a sinistra dove scavano dove scavano i guardi eh oh no oh no l'ho già aperto che cosa non ho capito niente la macchina viene di nuovo oh la macchina ah mi sembra che faccio polpone due come lì vecchio polpone silenzi scesi 24 metri sulla sinistra 47 ma dopo palazzo di qua a me me lo pingava sono due forse si sono due uno me lo pinga dritto a me 44 metri 38 38 38 38 che vuole fare passi 17 metri si sono due posso tirare uno sui quattro io se lo preferisco provare a fare spodere l'elicottero ecco lì ecco lì oh ecco lì oh qui 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 andrei rianimami andrei rianimami no 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 vabbè eh colpa mia eh lo so però ho visto che sta arrivando gente no hai bisogno di i passi l'aperto io la porto ma come cazzo ha fatto questo a venire qua scusate abbiamo un trofio per casa anche questi qua ce li avevano sull'elicottero qua io sono un cazzo ades transfer possiamo provare oh macchina ma stanno sparando a terra 1 la sopra vabbè è da pig and blu possiamo salire qua sopra vai vai vediamo le porte 6.000 guadagnoli ma tu la volessimo dire più ma no non ci so ma l'ho ucciso a quello mi ha dato una chimica non 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 sono qui sono qui sono qui sono qui quale sotto comunque si sotto salendo sale sale c'è anche il terzo c'è una maschera per chi non ce l'ha posso andare da sopra io ce la dobbiamo andare? non ho dato team a nient'altro quindi il tizio sarà qui in zona sicuro possiamo andare dritto capisco perché non mi ha aperto il paracaduto sti imbecille andiamo in una casa davanti ok Così quasi la prendo sta flashbang Voi avete il sensore? Vai la prendo, magari può essere utile Oh davanti Erano lì li ho visti a piano terra Eccolo uno Si devono uscire uno là Colpito Sono andati verso destra Sono andati verso lì Sono andati dietro Staccato uno Guarda Guarda Si dice che si sta in banco Aspetta Si si cae il discorso Che cazzo ne ha molto guano No no non credo Uno è verso il pink blu Però secondo me come ha detto Giacomo è buono Un lano, un lano Non uscite Non so dove è Andiamo in banca Andiamo in banca Tutti assieme E' un lano sotto Sperita non ci posso credere E' chiediamoci qua dentro ma perchè a me ti metterai a vivi, a vivi, a vivi, a vivi 49 metri, già, 49 metri, non dico dove, dove sei? 40 litri 40 litri proprio, di tutta a metà ma che dove eravamo prima, verso dove eravamo prima te ne mirate, sì 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 43, con la pelle ma era benissimo c'è team 7 versò ma attenzione che può darsi che verrà qualcuno qua, di sicuro passi 40 minuto 50 minuto 40 minuto 40 minuto 40 minuto 3 team 6 persone ma dove usciamo? è la bocca una bocca rinnovate lo fai tanto occhio occhio giacomo vamoos che bello il primo game il primo game il primo game senza fare un gulag il primo game è giusto Grazie